E vai! E vai! Grande! Non ti lasceremo mai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! E vai! In questa lotta vincerai, non ti lasceremo mai. Primo tempo da Camomilla, anche se alla fine era indescuti a mettere quella palla dentro, ma poi al secondo tempo il Milan si sveglia, vince, convince, stravince. Grandissimi ragazzi, il via 0, meraviglioso. Allora, che si inizia? La squadra che ci cazzo! Nooo, che cazzo! Allora, Carlo va, parliamo con il Moscheri, va. Allora, cosa ti è sembrata questa partita? Anche le donne, dai, tutte le donne qua, dai, venite qua. Tutte le donne qua, allora, tutte le donne. Allora... Parlate italiano, lo italiano? Italiano di dove? Piemonte di Torino. Piemonte di Torino, possiamo parlare. Io faccio anche il tuo merce, io ho uno dei miei personaggi, io faccio il mio canale. Allora, cosa vi è sembrata questa partita? Dove è fatto che stai rimontando? Ti eravamo vicino. Di Asti, di Asti. Ah, sì, allora, c'è un bambino. Ehm, cosa vi è sembrato questa partita? Mi è sembrato questa partita, ragazzi. Io non ho visto. Io non ho visto. Mi è sembrato questa partita. Mi è sembrato questa partita. Sono bambino. Sono bambino, sono bambino, sono bambino. Però ci provo a maniare con cosa. È stata una bella partita. Bravo, bravo Milan! Come li chiamate? Daniela! Daniela! Elisa e Daniela, altre due tifosi rossolieri qui al Milan Club Barcellona. Grazie, grazie. Non avete nessun problema ad entrare in video, no? Sì, grazie. Sì, grazie. Allora, ragazzi. Carlo, vieni qua, Carlo. Carlo. Carlito, che ti pare se queste partite? Come stai a partire? Bravo, lo puoi un po' dietro la campiera. Un gran partire per la migliore parte. Gran Milan. Primo posto. Allora glielo accantiamo, ragazzone. Salutate la capolista! Salutate la capolista! Ragazzi, questa è una gioia infinita. Questo Milan è un grande insieme al nostro Piolis on Fire, il grande allenatore del Milan, che è il fautore di questa grande vittoria. Oggi 2-0 davvero è una goduria incredibile. Allè, 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 allè Marco, allè. Allè, allè, allè Marco, allè. Anche Tommy, dai, anche Tommy, sempre qua, sempre nel canale, il nostro Tommy. Stai scontento, stai scontento Tommy. Grazie. Grazie. Lorenzen, vieni qua, mio figlio. Sei la merda di Milano, credo te macchiare sul cuore, la festa di sonore. Merso qui per le delusioni, c'è il pezzo di obbligazioni. Corsonelli siamo noi, ma chi cazzo siete voi? Il terrestre vaffanculo, il terrestre vaffanculo, il terrestre vaffanculo. salutate la capolista salutate la capolista che grande gioia ragazzi questo è un'altra cosa di spettacolare adesso ci aspetterà un'altra settimana felice perché poi c'è con il Borussia Dortmund questa partita davvero emozionante che ci aspetta anche in Champions League oggi grande prova dei ragazzi dopo un primo tempo davvero camomilla siamo riusciti a ribaltare una situazione incredibile un 2-0 impressionante bellissimo il Milan spettacolare nella seconda parte sono contentissimo e come sempre alla faccia di tutti i pioli out alla faccia di tutti i pseudo milanisti alla faccia di tutte le merdacce che dicono di essere milaniste e invece non lo sono cambiate squadra perché 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 pioli is on fire pioli is on fire la 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 Corradino più a li sono fire dillo dillo una volta più a li sono fire più a li sono fire alza la voce Corrado alza la voce alza volevo dire abbiamo trovato chi? Il Zaghi 2 E chi è? La vendetta? Il Zaghi 2 Ah, sì, un caffone Ragazzi, un caffone che roba Il caffone la metti in aria Il caffone la metti in aria Il caffone la metti in aria Ed è gol Passi la palla, ed è gol Grande, grande, grande ragazzi Sono troppo contento, veramente Una gioia infinita questo Milano E quindi davvero Ciao carissimo Dai cazzo Allora, ragazzi, sempre Forza Milan Ovunque e comunque Alle 11 sarà questa live Nel posto Salernità da Inter Sul canale dell'Uno Milanista Ciao caro Che gioia ragazzi, che gioia questo Milano Grandi, grandi, grandi Ciao